Stiamo andando in campagna, mi hanno appena chiamato la vigilanza, la vigilanza rurale. Quanto pare c'è qualcuno che sta in campagna da noi, ci hanno fatto scappare i cani, ci stanno togliendo la recinzione, da come mi hanno detto, però il problema è che i cani sono scappati. E mo vediamo che cosa succederà, perché se i cani sono scappati è pure notte, dove li vado a cercare? Quelli saranno terrorizzati. Qua con me ci sta pure Tonia, ci stanno pure le altre. Ci stanno pure le altre con me. C'erano lì? Sì, le vedete tutte le cose. E noi da adesso stiamo andando a vedere, il nostro obiettivo è quello di filmare questi qua e il video lo portiamo stasera stessa in caserma dei carabinieri in modo che possono arrestare questi deficienti, sempre se non li ammazzo io per prima. perché la devono smettere, perché è l'ennesima volta che questi qua entrano in campagna. Fino in ora non hanno toccato i cani, ma ora mi hanno toccato i cani. e ora mi faccio dei piccoli a questi qua. Proprio vigliacchi, vigliacchi. No, bastardi. Proprio vigliacchi, vigliacchi. Guarda di uno sguardo. Ma la notina. E voi li vedete a Nans, dove? Cazzo. Speriamo di una notina. Ma ha detto che alcuni cani se ne sono scappati Perché ma? Ma la faccio Ma stai pure quella dai Mi sembra che lo tengo io, perché riprendo la strada No, 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 è sicuro Così non ti chiede niente Ma dai, mi riprendi Ma dico che io Ma che cazzo fanno Che se ne vanno in campagna Cioè ma che fastidio danno Oh fastidio danno Io non so che cazzo che fastidio danno E pure è buono Non danno fastidio Così danno Per il cazzo fino a qua Che è pure pericoloso A liberarmi A liberare i cani Oh Ma ci sta in un giro Che ci sta? In un giro Madonna Che cazzo Madonna ma stai stronti Madonna ma che cazzo Ma c'è paura Ma c'è paura Ma che cazzo Vuoi chiederti? Ma ma ci state Giusto oggi Giusto oggi Ci state a vedere Che cavolo sono Questi mo Noi siamo pure quattro anni Eh Ma c'è una cacchia di paura Carabinieri Sì Ma ma dobbiamo Ma adesso dobbiamo Andrere in campagna Sì, puoi entrare in campagna, perché la vigilanza stava, tu la stai la vigilanza, ma non lo faccio a dubbio, perché dobbiamo identificare i cani, il terreno, se lì è davvero la venetaria, è vero un po' interno, un po' mi hanno affaiato la casa, cacciato un po' di un terreno. C'è stata una macchina di giustizia. C'è stata una macchina di giustizia, c'è stata una macchina di giustizia, ho controllato ancora, ho visto che stanno i cani, che se ne sono scappati. Eh, proprio, proprio, anche se è buio, non si riesce a vedere. Un altro giro. Ma noi pensavo che fosse un altro giro. Eh, è un ceri, è un ceri. Ah, è un ceri. Ma te c'ho una paura. Ma no, Tonia. Ma no, ho paura. No, perché sai che significa? Che quando mettono i ceri ci stanno nelle gambe e ci stanno facendo le messerie. Eh, vuol dire che sarà un segnale sicuramente. Stai stronti. Ma no, Tonia. No. Ah! Avete visto pure voi? Madonna. Un'ombra, un'ombra, un'ombra. Ma te c'hai paura. Ma te c'hai paura. Aiuto. Ma te c'hai paura. Ce l'andiamo? Ma mi stai cagando sotto, bravo. Mi stai cagando sotto. Ma no. Ma dove mi stai cagando sotto? Ma non hai visto niente? Io ho visto una cosa nera, Madonna brutta. Madonna mia c'è il cuore. Madonna qua abita qualcuno che conosciamo comunque. C'è qualche cosa e ritorni indietro. Madonna mia. Io non ce l'ho più. Sono chiuse le sicure. Sì, ho chiuse le sicure. Madonna. Ma c'è qualche cosa che scappa sotto. Madonna. Guarda che lo vuole. Qua c'è lo zoom. Ma che vuole? Non lo so, Madonna quella cosa sembrava una persona. Io l'ho visto. Che l'ha fatto così. Io non l'avevo visto andare. Madonna, mi sono presa un male. Madonna. Ma la campagna è più avanti. Io non ce l'ho mai venuta. Non ce l'ho mai venuta io. Cazzo non passa manco nessuno. Un'altra cazzo di macchina, niente. Adesso ti mando tutto. Madonna mia. Adesso ci voleva carmi. Io ho visto una luce. Magari hanno avuto il tuo tempo. Non lo so. Che sono queste scritte per te? Che scritte? Ah, ci sono delle scritte per te. Chi ho letto? Non ci ho fatto. Ci sono dei segni, dei signori. Sarà qualche dengia, qualche mongoloteca sta facendo. No. 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 Ho poi eri 일본atori nato, che cazzo è volete? Non ci voglio? Noè? Detico di scherzi a parte? Ah. Oh my God. Io lo so ho aiuto. Ciao tesoro. Vaffanguto! Non è finita! Vaffangarci! Ti è piaciuto? Vaffanguto! Che è tardi? Vieni! Vaffanguto! Non dire la verità! Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Tutti! Io lo sapevo! Mi sono sentita! Mi sono sentita! Vaffanguto! 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 No di più lui! Stronza! Ma tu che ti ha accolto? Io sono te mandato tutta! Ce l'andiamo! Ma io sono te mandato tutta! Io sono te mandato tutta! Hai capito? No! Che stigione! Che stigione! Che stigione! Ehi Donatello! Si fatto! Si tornate! Perno Donatello e Mattia non so se li vedi! Spassati un attimo! Stronzi! Stronzi! Questo sarebbe lo scasso del compleanno! Si! Vaffangulo! Se te lo facevamo lunedì! Tu ci sgamavi! Vaffangulo! Hai avuto paura? Stronzi! Vaffangulo! Guarda! Guarda che ho avuto paura anch'io! E lo sapevo! Ho avuto paura anch'io che lo sapevo! Ma c'erano le gambe che mi stanno tutte pure! Stronzi! Sto passando una macchina! È stata in macchina! Ma quando mi avete messo i ceri? Eh? Ma non mi hanno messo i ceri! Stronzi! Si vede! L'hai vista la faccia? Ma non mi ha detto che mi vuole urla più giù! Linda! Linda gli ha aperto il vetro e loro! Madonna! Tocca! Ma che stava qua così? E io mi sono arrivata! Ma non mi ha fatto! Mi ha fatto curire! Eh! Linda colpisce ancora! Ma ora! Ma sto parlando! Il cero! Ma questo è bravo! Madonna! Mi ha detto no! Mi ha detto no! Grazie! Grazie! Auguri! Auguri! È giudato! Ma la schiaccia non me lo fa più! Sì! Vabbè! Ma lui non ha visto buoni video! E i Gali stanno bene! Oh me l'avete arregato! Vuoi dire qualcosa? A me? A tutti quanti! Accendilo però! Ehi! Auguri è tuo! Ehi! Ti riaccendo! Accendi! 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 Vedi che quando è inaspettato è ancora più buono! Va bene questo colore! Ehi! No! Ehi! 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 No! Ehi! Ecco! Puoi rompere le palle già da scassire con il telefono nuovo! Un whatsapp! Ehi! cosa ne pensi di questo scherzo? mi sono sicuro che lo venghi io sono così prima che ci fermassimo noi allora per preparare questo scherzo stavi dicendo la vigilanza? che abbiamo avuto una bella fortuna cioè noi siamo venuti e quelli se ne sono andati adesso l'abbiamo tutti guardati vabbè non ci voleva proprio ci accendi i fari perchè vorrei riprendere ho fatto vedere più qua devi metterti il cappuccio però Trigorio 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 fatti un po' più qua Trigorio hai perso la cintura comunque ecco Trigorio una foto con Trigorio è una stronta è una stronta è una stronta di più missione compiuta non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare così va così si accendi prega proprio ciao Trigorio grazie ci vediamo ci vediamo all'entrata a dopo a dopo a dopo a dopo ciao